Karim, partiamo dalla vittoria, è bella e convincente la prima sul campo di questa stagione, le tue sensazioni? Sì, siamo stati bravi a segnare quattro gol, che non è mai facile, a rimanere sempre in gara, creando tante occasioni. L'unico piccolo neo è che abbiamo concesso un gol a mezza pallonattiva e sicuramente è un punto su cui lavorare. C'è un po' l'impressione che dopo il primo gol vi siete un po' sciolti, cominciate a girare meglio il pallone e poi siete dilagati. Sì, dopo il primo gol è andato sicuramente bene, abbiamo continuato a giocare. Nel secondo tempo abbiamo avuto 5 minuti di block out all'inizio e 5 minuti dopo e quelli sono i margini dove dobbiamo lavorare tanto. Squadra dai margini di miglioramento, passando la tua prestazione, il gol, quello che ha aperto la partita sotto la curva sud. Sì, è stata una bella emozione, soprattutto perché è il primo e soprattutto è bello. È stato bravissimo Liam a inserirsi e dopo abbiamo creato una combinazione. Comunque ci eravamo già avvicinati in un paio di circostanze, una volta Pazzini e un'altra volta io, quindi eravamo comunque in gara.